Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo di nuovo qua su Banishers Ghost of New Eden per continuare insieme la nostra avventura. Allora, eravamo rimasti qua a casa di Esther, parliamoci. In tempi tanto cupi. Charles kept saying it, have faith, they will come, if only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles, just one more victim of the curse of New Eden, you know how he is, was, restless, impatient. Ma scusa, ma dov'è Red? Stavo parlando a chi prima? Non mi ha caricato Red, ragazzi. Allora, c'è qualcosa che dovremmo sapere? Signorina Esther? Ormai signorina, non è più vedova. Ma è celibe. Poi, Lester, per favore. Ragazzi, scusate, non so perché non ha caricato Red. Facciamo finta che sia lì. Con lo spirito. È già un fantasma, è già morto. È già andato. Dai, no, ridico. Va bene. Come andavano le cose prima? Come andavano le cose, sai, prima di tutto questo? Prima di la scusa. È stato un'azvolta e divertente tempo. Charles ha escivato in la comunità qui. Aveva una mano in tutto. Tutto tutto, ma persone venivano per l'inforzare. Penso che ora si guardano a qualcuno. Ma non mi sembrava che sia lo stesso. Cosa puoi mi raccontare su quanto riguarda il governo Haskell? Farfax Haskell è molto scoperto e scoperto, ma a volte sa pelle può essere troppo forte. Ma non ci credo che si chiama Pelle Dura Sarà un soprannome? No Ok, a posto Dio Esther, ti lascio nel tuo dolore Contiene informazioni importanti Dopo aver visto il fantasma di suo marito La povera Reader è sconvolta Grazie a tutti sarebbero sconvolti Questa cosa c'è? Ispeziona Mio carissimo Chas, che piacere mi hai fatto ragione di te Va bene Ah ma è il studio di sopra ragazzi Andiamo di sopra Non parlare, ridi che sei un fantasma in questo momento Questo studio, signori Però non mi fa fare niente perché sta parlando Nascondeva la calvizia Ok Era un bravo uomo Ok Un pregiato Re di un set di scacchi Va bene Ah beh quindi Avevate già un'idea di com'era il mondo Ma il L'Antartidi Ero curioso perché dicevano che nel 1500 era Senza ghiaccio Qua però non si vede Vabbè niente Vediamo qui cosa c'è Ispezione Era questo l'indizio Il mio giacidio leverà il mio dolore Tu mi spaventi con sogni e mi atterisci con visione Così l'anima mia preferita soffoca Lei viene da me dei miei sogni Sì Job è la Bibbia Ragazzi ci ma Red non l'ha caricato Non so cosa fare Reed è già un fantasma come vedete Tiene sui libri ma lui non c'è Tutti questi sogni Premunizioni Va bene Andiamo per lustrare la camera da letto Prendi Abbiamo preso dove vengono gli incubi Ispezioniamo Una spira d'argento solitamente inossata da Charles Davenport Fregiata Di una particolare spada Con triplice Elsa Ok Vada qui Questa è l'indizio Charles è morto Non distingo più da Esther Sinister non si può congiungere Se è nato il mio mondo È crollato Non è andata questa qua E infatti è Esther che scrive Ok Ok Va bene Vediamo cosa abbiamo Quello che era un tempo Una allegra e colta amica di Antea E Reed E Red E ora una giovane vedova Prima della sua ancora E alla deriva In un lutto senza fine Lasciamo qua la signora Esther addolorata Sì Se ne andiamo Esther È un problema Dobbiamo andare al cimitero No non volevo disturbarla Volevo dirle Salve No salve Come stai Stai facendo Stai facendo dei brutti soldi Lo chiediamo Ma No 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 Tutti lo ascoltano, nessuno risponde, si tratta all'interno della pittà, il po' Charles. Dobbiamo fare il nostro camino al cimitero. Per favore, amore Anteo. Ah, è tornato Reed, non è più trasparente. Red, no, io chiamo Reed ma è Red, non Reed, con due E. Ok, il tempo gioca contro di noi, ragazzi. Avversario temibile. Ok. Corvi, brutta cosa. Io vado al cimitero a fare lo stesso, a chi chiedi al cimitero. Antea, a chi devo chiedere al cimitero, ai morti parliamo. Sì, anche tu, va bene. Ci lascia qui da sola. E devo trovare la posizione, la mappa. Per l'uso al cimitero. Ok, va bene, è dietro di me quindi. Devo andare, vado di qua. Andiamo, corri. Eccolo di qua, sicuramente di qua. Cimitero, infatti. Vediamo se è corretto, esatto. Lo sapevo che cimiteri è cimitero. Si prosegue. Oh, cos'è, 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 cos'è sta luce? Qua cosa dice? Il cimitero è chiuso per ordine del governatore, ragazzi. Ma noi ce ne freghiamo. Scusi, può entrare? Antea, mi entri, grazie. Bisogna premere, se no non va. Dove mi stai portando? Aspetta che faccio fuori questo qua malamente. Benissimo. LB, blocco i colpi. Benissimo, ottimo. Oh, oh, oh. Ho visto alla fine, brutto figlio di una... Di un fantasma. Ok. Che sicuro, ragazzi. Scavalchiamo. Trovo il luogo in cui è morto Charles. Qui, qui. Eccoci. Ispeziona, ragazzi. Esegui rituale. Ah, ci serve pirite e candele della core. Ricordi che morti per salvare ci serve a cogliere risorse richieste. Questa è la pirite. Due. Abbiamo due di pirite, ragazzi. Eccolo qua. No, non volevo schiacciare... Ah, c'è il combattimento. Non avevo notato. A posto. Altra gente, eh? Prendi. Ok, trova... Candele della costa. Fungo. Questa qua è ancora la pirite. Questa qua è morta di là e questa qua è la sua tomba, ok? Vicino all'acqua, ho sentito. Questa? Ok, esegui rituale. Ragazzi, torniamo su. Aspetta che spacco su qui, chi... Simpaticissimi amici. Torniamo su di qua. Eccoci. Esegui rituale. Avanti. Per rivelare dei ricordi. Va bene, ok. Chiudi. Rituale di remembranza. Per rivelare dei ricordi. Ok. Esegui il rituale. Ah, stavo facendo un esorcismo, Charles. Tu non mi commandi, clergyman. Chi sei, ghost? Unveili te stesso. In modo così gentile. Chi sei? Io sono tutto ciò che hai mai sfruttato. Perciò! Non hai una scena, non hai una scena, non hai una scena, non hai una scena. No, ma nessuno. No! Le ha fatto venire un infarto, così? Ma pensa che... sta brutta... Dio... ma... madonna... Ispezioniamo... Bibbia di Charles, rinvigorirsi, ok... Torna alla tomba di Charles, torniamo alla tomba di Charles... Eccola, la tomba di Charles, esegui il rituale... Cosa... rimembranza? Svela un eco, questo non ci voltava di uno spettro a manifestarsi... Cosa, la tomba di Charles... Ora è una buona volta per noi vecchi amici, parliamo... Abbiamo troppo vicino... Red e io, non ci vediamo ancora una volta... Tuoi popolini diventano il maestro... Se l'abbiamo, ti ti giocerisco... Ok, ha fatto un disegnino sulla terra, ragazzi Evochiamo Charles Come on, Charles Join me now I know you're here Ecco Charles, ragazzi, è comparso A quanto pare perdono la memoria quando diventano fantasmi Si ricorda di noi Commesso un errore, mi è costato la vita Poca roba Cos'hai scoperto sulla maledizione? No, no? 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 in pace save her, my friends and save yourself save them all c'è penso che questa cosa ragazzi sia più dura ancora perchè praticamente dovete dirgli addio due volte cioè questa cosa sta peggio di prima vado a casa faccio le donne possono parlare allora vado all'interno della scuola e faccio il bed Charles è a resta ora fino che gli ha dato il cuore che ha bisogno ok accompagniamo a casa Esther ragazzi scorta Esther a casa mi fai le finte mi fai le finte corriamo Esther se no non arriviamo più mi dispiace se la faccio correre signorino ma il gameplay ha una durata ah c'è proprio l'uscita privata dietro al ok permesso ecco mi fai le finte mi fai le finte mi fai le finte le finte buona notte buona notte Esther signor tu sei uno dei dei banici di Haskell mi dico Antea Duarte potremmo dire Red McRae Hugh Bachelet Bachelet non voleva dire macellaio è caduto in disuso ha amato via bambini per forza la maledizione umili e fedeli ragazzi intuisco disapprovazione mi ha detto una notte di disapprovo Mr. Bachelet ho sperato di essere un saluto oh non credo la tua onestà no la tua will per combattere il teatro ma noi abbiamo preguito per la salvezza e madame senza volerci ti offender sei un angelo in che senso mi sta prendendo in giro signore no? perché state facendo dei brutti sogni? state facendo dei brutti sogni? Mr. Bachelet Mettetemi la prova vi chiedo mettetemi la prova try me ok la sala del picculto è infestata eh? did you know the reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that to his shame the late minister ended services and closed the meeting house no wonder we are where we are and what do you think sits in the meeting house? Miss if the devil sits in our meeting house it means that we the people of New Eden have failed to repeat eh giusto ovviamente no? mi sembra logico ok dove sono i bambini? ma ce l'ha già detto il tipo che li ha mandati via ah sono morti? abbiamo mandato i bambini verso ah ok li abbiamo mandati via perfetto come ha detto il il sindaco il firefox da di prima no 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 ok addio farewell mister bachelor and you may wish us luck I shall not wish you luck I shall wish you salvation ok ci auguro la salvezza ragazzi andiamo da red finisci a red nell'edificio della scuola ed è accoglienti più o meno qua cosa c'è? cos'è sta cosa? prendi ho preso non so cosa del cuoio le tecniche degli appuratori riposati ci riposiamo ragazzi così sullo sgabellino o no o no o no ma ragazzi non so perché non red non c'è mai nei filmati non lo so i love you red mccraith but but when it comes to ghosts your heart makes you reckless it's dangerous were you really about to banish charles? quello non era charles? that wasn't charles that was the ghost of charles charles davenport no è red il fantasma non so perché non lo carica ragazzi anche nel gameplay precedente non l'ha caricato a casa di ester non lo so l'ha caricato dopo boh noi puratori giungiamo a una risoluzione non c'è posto non c'è posto per i morti fra i vivi cosa più cattiva cosa e ci pagliano per deciderlo signori e poi ti ucciderai di nuovo farei qualsiasi cosa per te beh ma onestamente e poi ti ucciderai di così è arrivato ragazzi è comparso è arrivato ragazzi è comparso è arrivato red signori non è più un fantasma giornata terribile giornata terribile è arrivato di questo e mtia si 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 i Grazie per essere rimasti con me fino ad ora, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e alla prossima. Ciao ciao!